Ti occupi di finanza per le piccole e medie imprese? Ma spendi tempo e risorse per inserire dati? Elaborare informazioni? Riparare o ricercare documenti? Troppo tempo e troppe risorse? Linus è lo strumento per te. Concentrati sulle attività che creano valore aggiunto. Azzera il lavoro di Backoffice. Segui più clienti e con migliori risultati. Crea con un click il company identity file di un'azienda. Linus trova e rielabora per te i suoi dati pubblici e li riorganizza come vuoi tu. Guarda i tuoi clienti con gli occhi della banca prima che commettano errori. Confronta con un click il bilancio di un cliente con quello dei concorrenti e aiutano a capire in anticipo il mercato. Trasforma le informazioni del tuo cliente in risposte sulla fattibilità del suo piano aziendale. Crea in pochi minuti le presentazioni con i contenuti che desideri secondo uno standard di comunicazione riconosciuto. Gestisci i tuoi collaboratori. Lavora in team con il cliente e con i tuoi partner. Lavora in sicurezza su qualunque macchina. Linus è efficace perché nasce da chi, come te, si occupa di impresa da molti anni. Linus valorizza il tuo tempo. Grazie a tutti! Grazie a tutti.